Mister, quinta vittoria su otto partite in C1, è dura lasciare questa ginnastica? Sì, è molto dura, oggi infatti è stata la mia ultima partita, purtroppo motivi personali mi costringono a lasciare questa squadra, che in poco più di due mesi mi ha dato tanto, sia fuori dal campo che dentro al campo, oggi è stata la dimostrazione di quello che è la ginnastica. Abbiamo fatto una partita favolosa, nonostante le numerose essenze, i ragazzi hanno dato tutto e forse anche qualcosa in più di quello che hanno. Oltre alla partita vorrei sottolineare quello che è successo a fine partita, è stata una cosa che porterò sempre con me, è stata una cosa commovente, tutta la squadra attorno a me, è una cosa che non dimenticherò mai. Quello che mi fa piacere è che mi fa lasciare col sorriso e la posizione in classifica. Ora non so bene tutti i risultati, ma penso che siamo terzi, una cosa fuori da ogni immaginazione. Quindi io sprono i ragazzi a continuare così perché se continuiamo su questa strada veramente possiamo regalare alla città di fondi, a questa società e a noi stessi, perché mi considero ancora uno di loro, quindi a noi stessi grandi, grandi soddisfazioni. E basta. Bocca al lupo per tutti. Bocca al lupo per tutti.